Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi, un po' differente dal solito, siamo qui in questo video che state vedendo Indovina le bandiere del mondo, parte 1. Chi sta? Non lo so quali bandiere ci saranno, io sono sempre stato scarso in geografia, avevo avuto l'esame in prima, però ho giocato a FIFA, quindi potrebbe essere un vantaggio. Quindi direi di non perdere il tuo tempo, visto che dura già 10 minuti e 14, quindi mi raccomando, vi lascio sempre il video originale in descrizione, ovviamente anche il link del canale da cui prendo, che si chiama Quiz Radio, quindi iniziamo, vai! Ecco qua, Quiz Radio, vai, Indovina le bandiere del mondo, ci sono, 3, 2, 1, non so quanto tempo abbiamo, 30, calmi, Ah, 10 secondi, eeeeh, dovrebbe essere il Vietnam, con questa stella, ah, ah, ci danno l'indizio del continente, vi metterò la musica bassissima, ah, madonna, io ce l'ho al massimo, eh, Croazia ovviamente, vediamo quanti anni dove andiamo su 30, dai, mi metterò il punteggio, penso in basso, sotto la bandiera, ragazzi, mi stavo senza cuffie, perché mi stanno uccidendo, scusate un secondo solo che abbasso il volume, se non muoio, un attimo, ah, ok, oh, cavolo, questi, questa Australia, Nuova Zelanda, Australia, dovrebbe essere Australia questa, Nuova Zelanda, e ti parevati, vabbè, dai, ci portate, Bolivia, no, Bolivia è d'altro verso, eeeeh, non lo so, Guinea, no, questo non la sapevo, non conto i punteggi, tanto li vedrete, Uruguay, adesso Uruguay senza problemi, scusate, c'era il mouse in mezzo, probabilmente, va bene, vai, Belgio, questo è il Belgio, ci siamo, ci siamo, vai, almeno la metà devo indovinarle, eccola, appunto, Filippina, no, no, mai più, Colombia, al 100% è Colombia questa, nigeria, mostro, le bandiere di fifa, quindi quelle più comuni sono più facili l'espagna spagna ok mi aspetta, non so quanto sarà il punteggio non so neanche dove metterlo e la madosca Sri Lanka Mongolia Cuba potrebbe essere Cuba, no? ok Cuba presa ahia non è Turchia però è di quelle parti la... l'Africa Turchmenistra, non lo so Libia quel Turchmenistra è in Asia no, Libia ehm, dai Stoichkov, Bielorussia ehm, dai Stoichkov, Bielorussia mannaggia a me, India mannaggia, sapevo io che era Bulgaria e non Bielorussia perché è sempre così ci sono simili eh, India ovvio dai eh Paraguay? non so, mi ricordo quelle cose in mezzo del Paraguay un mostro, si, tra poco finisco fuori dell'inquadratura Paraguay, Paraguay signori vabbè, allora sarebbe Inghilterra ma va bene anche dire... qua, ovviamente, perché non puoi dire che è sbagliato eh, Gran Bret... vabbè, è la stessa cosa, dai no, vabbè, inghilterra... vabbè, è giusto eh, vabbè, questo cos'è? cos'è? Cuba in miniatura, cavolo è? no, dobbè un indizio in più... Asia, eh, un indizio del cacchio azerbaijano Giordania ma che dove è questo? Oceania Polinesia francese, ma vaffan giro, dai ok Argentina Argentina va bene, ok vabbè, quelle più famose ci stanno, mani mortati, figli cioè, Polinesia francese cioè, invece, dovrebbe essere un isolotto del cavo, l'incontro, cioè Barro, dove... di Barro? Di che nazionalità? non mi viene non mi viene non mi viene, Gambia annaggia me a Barro eh oh dio e Polonia è principata in Monaco, questo che sono invertito Polonia vabbè, Europa c'erano, tutti e due Corea del Sud eh, ma quelle più famose è più facile va bene va bene, va dai oh cavolo, è Romania o Chad? perché sono simili praticamente Romania, dai andiamo su Romania giusto, vai non so quanto sono, giuro dovrei essere più indovinate che sbagliate sicuro giamaica questa è la giamaicona l'Islanda 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 l'Isaria l'Israele l'Israelly Albania dovrebbe essere giusto Albania dai le carte di FIFA possono Venezuela Oddio, Equadoro-Venezuela Venezuela Ultima, la Macedonia Io dico Macedonia, ma in teoria è Macedonia del Nord Siamo giusti, è Macedonia del Nord in teoria Dicono macedonia, è uguale Va bene Allora ci sono altri mille video di questo tipo quindi fatemelo sapere se vi può interessare non so quanto è il punteggio, lo vedrete da qualche parte l'avrete visto, lo state vedendo, non lo so, non me lo metterò dopo quindi vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto più di metà indovinate ma credo di sì seguitemi su Instagram, ovviamente erico canziani pingu soprattutto iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento perché se no vi vengo a cercare e l'unica cosa e come sempre non so quando, non so come, non so perché l'importante è dire pinguele ciao 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 Grazie a tutti